Oggi una ciambella bella Quando cerchi una ricetta Solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto Due cuore e una cappa È il posto giusto E dopo Marcella bella Ciambella bella Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale Sempre più sballati E sempre più pazzi Non stiamo trasmettendo dalla giamaica Se ce lo chiedete Perché molti ci chiedono Ma da dove trasmettete alla giamaica Perché siete sempre così fumati No no noi non fumiamo Non fumiamo ragazzi niente Neanche il semplice tabacco Qui siamo così di natura È tutto molto naturale Come la nostra ciambella di oggi Una ciambella tutta i frutti È molto buona Tutti i frutti Ma un po' per volta Oggi useremo la fragola Ma voi potete farla con le pesche Potete farla con le mele Potete farla con le pere Potete farla con la papaya Potete farla come vi pare Perché viene buona sempre E con la banana Con la banana viene buonissima Potete farla come volete Io oggi approfittando della primavera La farò con le fragole Una ciambella buonissima Tutta frutta e vitamine Senza burro Senza latte Senza uova Senza teglia No la teglia c'è Andiamo di là E vediamo come si fa Eccoci pronti con gli ingredienti Per la nostra ciambellona fruttolosa Molto molto buona E allora 200 grammi di farina integrale biologica Questa è della Ecor Ma usate quella che preferite 130 grammi di farina di avena integrale La trovate in tutti i negozi bio 70 grammi di avena in fiocchi Questa è integrale Gli alimenti che vi ho citato come integrali Potete sostituirli anche con raffinati La scorza di un limone biologico 60 ml di acqua 100 ml di olio di semi Io ce l'ho di girasole Poi io ho preso alla Lidl Questi smoothie I frullato di frutta 100% frutta Hanno succo di mela Purè di banana Purè di mango Succo d'arancia Cellule d'arancia E succo di maracuja Voi potete sostituirlo Con un buon succo di arancia Per esempio Questo qui Che compro sempre la Lidl Che è 100% frutta Ed è 100% arancia Da spremitura Diretta Quindi non da concentrato Ed è buonissimo Tra le altre cose Poi un cucchiaino Di essenza di vanillina E 250 grammi Di zucchero a velo Utilizzo lo zucchero a velo Perché conferisce Una morbidezza Maggiore all'impasto Ma potete utilizzare Anche lo zucchero normale Vi basterà Miscelarlo molto bene Col succo L'acqua E l'olio E sbatterlo Fino a ridurre Molto la granulometria Dello zucchero Facendolo sciogliere nei liquidi Poi Ci occorreranno Anche 400 grammi Di fragole Mondate Mondate Eccole qua E naturalmente Una bustina Di lievito per dolci Iniziamo subito Setacciamo da prima La farina integrale Perché qui Il cruschello Non deve passare O quantomeno Che passi solamente Quello fine Perché Se no la torta Ha difficoltà A venire su A lievitare Bene Non sbatto più Se no comincia a cadere E lo elimino Adesso La farina di avena Di 130 grammi Anche questa Integrale Mettiamo Lo zucchero a velo Il lievito Anche questo Lo passo al setaccio Per sgranarne I grumi Adesso Miscelo Tutte le polveri Di più possibile Prendo due cucchiai Di questa miscela E li metto Da parte E grattugio La scorza Del mio limone Misceliamo bene Anche la scorza E poi Aggiungiamo L'avena Non la passo al setaccio Non la passo al setaccio Ottima Questa mi serve Soprattutto Perché Assorbirà L'acqua Delle fragole E adesso Cominciamo Con i liquidi Un cucchiaino Di essenza Media Di vaniglia 100 ml Di olio Bravissima Lo smoothie Wow E comincio Prima di mettere L'acqua A impastare Con le fruste Prima A nessuna velocità Faccio prendere Un po' L'impasto E poi Avvio Adesso È il momento Di inserire L'acqua Io Ne ho preparati 60 ml Ma Ne metterò Soltanto 40 Perché già Il mio impasto È bello morbido Perché Ogni avena Reagisce In maniera Differente A seconda Della marca C'è chi ne beve Di più C'è chi ne beve Di meno Quindi Il mio impasto È abbastanza liquido Quindi Non vado Con troppa acqua Metto Un attimo Da parte L'impasto E prendo Le fragole Sulle fragole Verso La rimanente Parte del composto È rimesto Un po' Questo non soltanto In questo momento Ne asciugherà Un pochino L'acquosità Molto poco Ma dovrebbe rendere Più Aggrappate Le fragole All'impasto Se no Potrebbero Graffiarle Una per una No? Sì amore Mi raccomando Quindi Con grazia Ed eleganzia Unisco Le fragole All'impasto E mescolo Adesso Prendo Uno stampo A ciambellone Bene Foderato Uno stampo Per le ciambellone Con il vostro Valido Secondino Che non è Quello delle prigioni Ma è quello che vi aiuta in cucina Non centrate il buco A questo punto Ponete in forno A 180 gradi Forno ventilato Io lo faccio combinato Elettrico e ventilato Nel tetto Una leccarda Colma d'acqua Al secondo binario Sulla griglia Ponete lei Ricoperta Con Della carta Alluminio Forno Combinato Sia ventilato Che elettrico Elettrico Sia la parte sotto Che è la parte sopra A 180 gradi 50-40 minuti Fate sempre la prova a stecchino Chi non avesse il ventilato Lo metta A 180 gradi Forno statico Chi non avesse lo statico Lo metta A 170 gradi Forno ventilato E allora Andiamo di là E inforniamo Chi non ha il forno Aliti Aliti Fino a chi ha respiro in corpo E allora Andiamo di là E vediamo Come viene fuori Ed eccola qua La nostra Torta È una torta Molto morbida È una torta Molto impalpabile E anche molto umida Al proprio interno Proprio per la presenza Delle fragole Che sono un frutto Al 95% Formato da acqua Quindi Sformatela con cura E poi Spolverizzate Con lo zucchero a velo Et voilà Gustate questa Soffice Predibatezza Alla nostra salute Vi lasciamo alle foto Anche della fetta E noi Ci vediamo dopo Ciao Bene Avete visto Che semplice Questa torta È veramente Non c'è la torta Non si fa È buonissima Morbidissima L'unica cosa Che vi consiglio Di usare Lo zucchero a velo Piuttosto che lo zucchero normale Ma anche lo zucchero normale Se lo fate andare molto Con le fruste elettriche Insieme ai succhi E all'olio Verrà buonissimo Lo stesso Quindi è solamente Una questione di tempo Per il resto Basta Provatelo Provatelo Con differenti frutti Con la fragola Viene molto molto buono Fate cuocere perfettamente E poi lasciateci Tanti commenti qua sotto Per dirci Com'è Questo ciambellore Integrale Alla frutta Buonissimo Uno sprint Meraviglioso Per la prima colazione Hai parlato assai Bene Hai parlato tantissimo E ora basta Noi ci vediamo al prossimo video Sempre qui Con Bucli Sulle vostre tavole Ciao